Finalmente da tanti anni, da tanti mesi, da tanti decenni sono arrivate le nuove maglie! Il Corriere di HL ci ha consegnato finalmente il pacco pieno di maglie e tute da calcio che abbiamo scelto qualche giorno fa sul sito calcio2022it.com E oggi andiamo a... Spacchettarle! Insieme! Inizia dal primo! Io, io! Inizialu, inizialu! Allora, io vedo una maglia della Jume Ma come sapete io faccio la collezione di maglie quindi questa è troppo grossa di papà Quindi, allora, ci sono Sembrano dei pantaloni Pantaloni, indominato! Pantaloni di papà! No, questa è la felpa, non sono i pantaloni Allora, è la felpa! Ho sbagliato! Questa è la felpa della Juventus stagione 2021-2022! Tocca a me! Adesso c'è una cosa mia! Sicura! 100%! Più 100 del 100! 110%! C'è una maglia della Juventus stagione 2021-2022! Ho la maglia della Juventus stagione 2021-2022! Ho la maglia della Juventus stagione 2021-2022! Una felpa! Allora, questo sicuro 110% è mia! Quindi, guarda da prima! Sicuro 110% è mia! E non è vero, non è mia questa maglia della Juventus stagione 2021-2022! Voilà! Una bella maglia azzurra con lo stemma dell'Italia! E poi, aspetta, aspetta! Aspetta che ci sono altre cose! Ecco la tuta! La nuova tuta! Ma aspetta, ci sono anche le calze! Calze dell'Inter! E calze della Juve! Questa è la tua moglie! Tuta 2021-2022 della Juventus! Poi, un'altra cosa, un'altra maglia della Juve! Questa è mia! Finalmente! E dietro c'è anche qualcosa altro! Ah! I pantaloni! Ci sono i pantaloni! Che sono miei! Pantaloni! La nuova maglia della Juve 2021-2022! Finalmente mia! Misura di Cristian! E poi cos'altro abbiamo? Abbiamo una maglietta del Napoli! Ecco la maglietta! Ma sono tutte per te! Sì, questa è grande! Ma perché sono tutte per te? E poi abbiamo... Prendi, anche questa dell'Italia è tua! È tutto per te! Abbiamo qualcosa dell'Inter qui! Qualcosa dell'Inter! Sicuro! 100%! Pantaloncini dell'Inter! Sono miei! No! Ma sono del Milan! Ma sono del Milan! Ma sono del Milan! Sono del Milan! E sono miei! Sicuro 100%! E poi abbiamo... Questa è dell'Inter! Questa è la maglia! La nuova maglia dell'Inter! Questa qua! Che bella! Lo investeranno tutti i giorni! Questa qua! Misura per Cristian! Guardate che bella! Guardate! E abbiamo qua la chicca, la chicca, la maglia più bella, indovinate chi è? Messi, Paris Saint Germain, maglia numero 30, ma anche questa è tua, sì questa è mia, ma io ho, allora, ricapitolando, io ho, togli questa cosa, aspetta, 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 prima di aprirla, aspetta, tieni, aprile, ricapitolando, io ho, dei pantaloni del Milan, qui c'è dei pantaloncini nuovi, una maglia dell'Inter, e un completo, un completo della Juve, e delle carte, lui cos'ha? Lui ha, lui ha tutta sta roba, quindi ha, quella dell'Italia, la tutta della Juve, tutta della Juve, della SSCN, questa è del Napoli che non l'ha fatta vedere, questa è del Napoli. No, l'abbiamo fatta vedere del Napoli. Va bene, allora, tutte queste maglie, tutte queste tute le abbiamo prese sul sito www.calcio2022.it.com e fino al 30 novembre c'è un'offerta strepitosa, Black Friday, potete acquistarle anche voi a prezzi eccezionali, con il codice sconto, qui, avrete 10% di bonus. Cioè, lui ha tutte le cose più belle che voleva io, specialmente quella dell'Italia! In più, Cri, le offerte, quali sono? Per ordini superiori a 59 euro, avrete una maglietta gratis. Per ordini superiori a 99 euro, avrete due magliette gratis. Per ordini superiori a 159 euro, avrete tre magliette gratis e la spedizione gratuita con DHL. Ma attenzione, anche questi sono i miei, i pattalucidi dell'Italia! Per ottenere le magliette gratuite dovete scrivere nei commenti del carrello dell'ordine il tipo di maglia e la taglia che volete. Come vi faccio vedere qua. Dopo aver inserito tutti i tuoi prodotti nel carrello, clicca sul bottone alla cassa. Entri nella pagina del pagamento, se hai raggiunto la quota di spesa necessaria per la spedizione gratuita, scegli spedizione gratuita. Scegli il metodo di pagamento, inserisci qui il codice CriCri per ottenere lo sconto del 10% e premi invio. Importante, in questa sezione dove c'è scritto osservazioni, scrivi il modello e la taglia delle maglie di calcio gratuite a cui hai diritto. Secondo la promozione in corso. Ad esempio, maglia Napoli taglia M, maglia Milan taglia S, maglia Inter taglia M. E a questo punto puoi procedere al tuo ordine cliccando su conferma ordine. riceverai tutti i tuoi prodotti più le maglie gratuite. No, sono neanche questi miei, ma sono tutti suoi, ma ragazzi, ma cos'è? Ma si è comprato le cose da solo? Ma pure questi dell'Intermel li tengo io. Questi dell'Intermel li tengo io. Comunque, i tessuti sono veramente belli, eccezionali. e vi diamo appuntamento al prossimo video in cui vi faremo vedere come le indossiamo, ok? Ovviamente io starò poco in quel video perché tutte le cose sono sue. Questa è mia! Bellissimo! Ciao! Ciao! Ciao!